Cari amici telespettatori che mi seguite da anni, sono qui per dire basta a certi format come Ballando con le stelle che sono diventati noiosissimi e danno troppo spazio a gente in là con l'età e non è giusto perché ci sono tantissimi giovani che vorrebbero ballare. Quindi è giusto che ci diamo un taglio con certe forma, questo è il nostro parere e credo che più di qualcuno di voi sia d'accordo. E detto questo vi abbraccio e vi invito a condividere questo video nei vari social.